ed ecco il mio letto ed ecco il mio mino di casa no sto facendo sai perché poi ci voglia sempre il ricordo ah beh certo sono mino di casa ah che bravo nini che ha ah che bravo tu lo mangi è la cosa di tutto il prosciutto ah ma non sono jeans quelli no sono proprio tecnici si ma tu sei veramente avanti è un casino sono tecnici sono tecnici grazie